Il mio amico di sempre è lì accanto a me, su un portico imbiancato a calce, mentre osserviamo gli altri edifici crollare, uno per uno, in silenzio. Un missile si inarca, da cartone animato. Esplode tra le macerie. Il vecchio fissa il mucchio di fumo che si alza e poi si siede, rassegnato, ma il fuoco che esplode attraverso l'oscurità gonfia mi fa fuggire. Ho bisogno di sopravvivere. Gironzolando per nuove case, con mia moglie ora al mio fianco, troviamo una stanza vuota, con pareti rivestite di frassino verniciato. Esausta, accetta di aspettare qui mentre io trovo una via d'uscita sicura, una macchina robusta, forse. Nelle strade, uomini armati con gli elmetti abbattono i vicini locali mentre urlano. Lievito, ma il muro di fuoco incombe sempre più vicino. Non riesco a trovare un modo per tornare alla donna della mia vita. L'unica via d'uscita sicura è verso est, verso l'oceano. Ma cosa ha a che fare con me, e con tutto questo, mi sveglio con un suono simile a quello di acqua angosciata, portata dal vento, ma questa non è una spiaggia. Una donna è in piedi accanto a me, guardandomi mentre i suoi capelli color sabbia fluttuano, assorti nella brezza. Non ho mai visto una tale bellezza. O sto ancora dormendo, o sono caduto attraverso una crepa in un altro mondo. Dove sono? Sei al sicuro ora? Risponde. Mi alzo mentre ricordo il mio sogno vivido, ma tutti i nomi sono spariti. Mia moglie, il mio amico, la mia città, me stesso. Non so chi sono, ma so che lo sono e che la vita serve per imparare. Al sicuro, forse, esclamo, ma all'oscuro. Dove siamo? Nel tuo mondo. Dove sei e dove vuoi essere? Mi guardo intorno, ma non c'è acqua da nessuna parte. Cos'è quel suono impetuoso? Sangue che scorre nelle tue vene. Sei profondamente vivo, amico mio. In realtà, mi sento come se fossi morto e fossi andato da qualche parte. Chi sei tu? Il suo caldo sorriso placa la mia paura. Per ora devo andare. Non avrai problemi a soddisfare i tuoi bisogni qui. Vedo il suo punto. Una delizia tropicale mi circonda. Ci sono altri qui? Tocca a te. Puoi esplorare o semplicemente ripusare. La scelta è tua. Scompare dietro foglie lussereggianti e vibranti. La serenità mi guarisce lentamente, mi rende di nuovo intero, tranne che per la memoria. Tutti i nomi sono spariti. Sento il bisogno di parlare, impegnarmi, condividere i miei pensieri, sentire il conforto di un commento gentile. C'è un addebito per la fuga da un mondo in guerra, e per l'udito del mio cuore, questo trambusto di onde impetuose. L'oblio, cominciò a intuire, non è la risposta ai problemi della vita. Mi concentro sulla guarigione. Mangio, dormo, gironzolo per giorni interi, peso e significato di tutto questo contro le tribolazioni dei miei giorni passati. Non è un compito facile. Una mattina mi sveglio e la trovo seduta accanto a me. La sua presenza mi conforta. Speravo che tornassi. Ho bisogno di parlare. Lo so, dice, sei perseguitato dai sogni, e ti preoccupano. Sì, dico, impressionato. Lei ne sa molto più di me, è chiaro. Perché i sogni mi confondono così. Mi lasciano sempre chiedendomi, come se stessi dormendo con una donna diversa ogni notte, cosa, semmai, verrà da loro o... I suoi occhi sono fissi nei miei con comprensione. Ogni sconosciuto sei te stesso. Gli esseri umani sono gravati dell'amor proprio. Li fa andare avanti. Questa notizia è difficile da accettare. Non vuoi dire che non ci teniamo l'uno dell'altro? Sicuramente possiamo fare entrambe le cose. Sì, ce n'è un po' in te, anche se non abbastanza. C'è un vuoto, un bisogno là fuori. Non vedo tristezza nei suoi occhi mentre rivela quella verità, e in qualche modo legge i miei pensieri. Sei scioccato? Ma lo sapevi già. Oh, sì, l'ho saputo. Forse vorrei che non fosse così. Il mondo è quello che è, o è quello che ne fai tu. Sogni d'oro. E lei è andata di nuovo. Mentre esploro il sito, trovo tutto ciò di cui ho bisogno per ora. Frutta fresca, un torrente incontaminato e ampia ombra. Un letto di foglie enormi mi sembra fatto su misura. La pioggia mi mantiene fresco, poi gli uccelli cantano. Ma presto tutto si consuma. Penso che sia la voce umana che mi manca. Rivoglio quella persona, che mi parli, che dica qualunque cosa. Condividere. Immagino sia per questo che parlo sempre da solo nella mia solitudine. Tra la resistenza del sottobosco, cammino con passo frettoloso, anche se non ho nessun posto dove andare. Non è il suono umano che bramo, questi uccelli deliziano molto di più le mie orecchie. È ciò che trasmette la voce umana. Il modo in cui porta significato ed eccita. Il modo in cui ci fa crescere dentro e concentrarci su quell'altra cosa, immaginata, sentita o sognata. È la chiamata che chiede risposta. Con passo irriquieto corro indietro verso il mio accampamento. Il mio letto mi aspetta, ecco tutto. Posso essere un uomo solo, una zolla portata via dal mare? Non essere più un pezzo del continente? L'umanità, immagino all'improvviso, è come un cristallo in formazione, dove ogni goccia di minerali deve trovare la sua strada, allinearsi e mantenere il suo posto, la forza e la bellezza dell'intera gemma cresceranno da questo. E quando la luce lo attraversa, possiamo vedere un arcobaleno multicolore che può abbagliarci. Raggiungo il mio luogo di riposo e mi siedo un po' per riprendere il mio fiato. Una vorticosa fantasticheria, sto passando davanti a vecchi cumuli di neve ora, attraverso la rovina del gelo del New England. Non so come sono arrivato qui, dove sto andando, ma bramo il calore. Mi sembrava di essere un'anima perduta che girava in un turbine, sballottata come bollicine in un bicchiere di sidro. L'obiettivo era andare, non di tanto in tanto, ma per sempre, oltre questa vertiginosa euforia. Sono stato quell'acaro di sedimento, e c'è un brivido in quello. Ma mi ha sfinito. Ora sono un marinaio ubriaco perso in mare, senza via d'uscita se non verso il basso, verso artigli laceri che sgattaiolano nell'oscurità silenziosa. Ma il potere della luce mi costringe. Il sole sorge mentre trovo la mia via sotto le palme ormai familiari, magre e alte. Ognuna si inclina e si curva distintamente per raffermarsi. Conosco queste palme come se fossero le mie mani. E allora, per conoscere me stesso, è così difficile? Ho i fatti più nitidi, le speranze più vive, le idee migliori e la storia perfetta a portata di mano. È una pletora di ricchezza. Vivo per imparare e, attraverso il mio apprendimento, cresco. E loro, i pilastri dell'umanità, gli architetti che vedono il piano, piega dopo piega, lo sanno. Mostrano persino ai ciechi ciò che hanno visto. È solo quando l'anima è accecata da false verità o autoinganno, concludo io, che non riusciamo a sapere, e viviamo in povertà, e siamo la povertà. Le palme in alto sopra di me ondeggiano nella brezza. Ho sentito la sua voce lontana la notte scorsa, un dolce addio, come una musica che si levasse dal suo petto, come se cantasse verso la saggezza delle stelle, oltre il genio del mare che cullò la vita. Sembrava una lunga sinfonia incompiuta, accresciuta da suoni notturni. Mi ha sollevato e guarito. Mi svegliai. I nomi sono tornati. Dalita porta i nostri nipoti qua e là. Il vecchio John siede sulla sua veranda intatta e sorseggia la sua birra. La vita va avanti a Stafford, in Texas. Ed io, Gustavo, mi sono rassegnato a indugiare. Ma a volte sento ancora quel suono impetuoso interiore. Certe notti mi attira verso le rive dell'ampio golfo. Guido da solo. Sterzo per evitare le buche su Mulo Land Drive vado alla ricerca di un suono più acuto sotto il lontano lucicchio della Via Lattea. Per evitare le buche su Mulo Land Drive vado alla ricerca di un lontano lucicchio della Via Lattea. Per evitare le buche su Mulo Land Drive vado alla ricerca di un lontano lucicchio della Via Lattea.